Accademia musicale Zamar, nota il tuo talento! Daniele, parlaci un po' dell'Accademia. Cos'è l'Accademia Zamar? L'Accademia Zamar è una scuola di musica con lo scopo di trovare e valorizzare i talenti musicali che sono dentro ognuno di noi. Quali corsi impartisce l'Accademia? È possibile frequentare corsi di chitarra classica ed elettrica, basso, batteria, fiati, archi come violino, violoncello, pianoforte, moderno, classico, canto e il particolare corso di fisarmonica. Organizziamo anche corsi collettivi di coro, come si chiama insieme, dai quali si sono formate diverse band. Inoltre disponiamo di una sala prove e uno studio di registrazione. Quali sono gli obiettivi raggiunti in tutti questi anni e quali sono i prossimi? Per noi è importante che i musicisti di qualsiasi età si divertano coltivando la loro passione che potrebbe diventare anche il loro lavoro. Il nostro desiderio è quello di continuare insieme al nostro fantastico staff ad offrire una formazione sempre eccellente e professionale. Dove è possibile visionare i vostri lavori musicali? Noi siamo molto presenti sui canali social come Facebook, Youtube, dove pubblichiamo spesso eventi, foto e videoclip musicali che realizziamo per le band e i vari allievi. Accademia musicale Zamar si trova in via 24 maggio numero 88 Bisceglie.